oggi facciamo le zucchine ripiene a barchetta per la preparazione abbiamo preso delle zucchine li abbiamo sbollentati in acqua bollente salata col sale con un po di sale una volta sbollentate per 10 minuti si mettono in acqua fredda poi li abbiamo tagliati e privati del ripieno si mettono un pochino capovolte un pochino di acqua togliamo la polpa la mettiamo da parte perché servirà con la polpa poi la tritiamo e uniamo altri ingredienti che sono già pronti qui il ripieno ci vuole un po di mollica fresca un po di grana la mangiata di friana prezzemolo cappere e tonno tonno sott'olio che ovviamente stiamo sgocciolando poi si gira un uovo nell'impasto e si fanno che si riempiono le zucchine abbiamo messo un filo d'olio nella padella pezzettino di cipolla tanto per insaporire e il ripieno si passa un pochino quant'appena si rende più giusto con la cipolla e con l'olio e poi si miscela con l'acqua di filo teniamo tutti gli ingredienti in questo preparato di ripieno un pochino Riempiamo le barchette di zucchine e le mettiamo nella virofola. Ecco le nostre barchette di zucchine a 20 minuti nel forno ventilato e sono pronti per gustare. Grazie a tutti.